Sono tornati regolarmente a fare lezione questa mattina gli alunni della scuola elementare di Marcianese a Lanciano. Gli atti vandalici compiuti ieri sera da un gruppo di 4-5 ragazzi non ha fermato le attività didattiche, banchi rovesciati, polvere di estintore ovunque a ricoprire pavimenti a redi oltre a vetri rotti. Dalle prime indagini a cura degli agenti del commissariato di polizia sembra che i vandali siano stati disturbati dai residenti allarmati dal baccano che proveniva dal plesso scolastico. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine assieme al sindaco Mario Pupillo e al dirigente scolastico del Don Milani Mario Gaeta per i rilievi intervenuta sul posto la scientifica. L'episodio di vandalismo è accaduto intorno all'ora di cena, la scuola è dotata di allarme ma in quel momento era disattivato perché inserate i locali sarebbero stati utilizzati da un'associazione locale. L'area vandalizzata è circoscritta all'ingresso e ad una sola aula non è la prima volta che la scuola viene presa di mira. Il 2 novembre 2017 venne scoperto un primo atto di vandalismo. Anche in quell'occasione i gnoti utilizzarono la polvere di estintore per imbrattare i locali scolastici e cancellare le proprie impronte. Per far ripartire le attività didattiche ci vollero giorni per ripulire i locali e ripristinare i luoghi.